simpatico batti becco fra lo spagnolo georgiano iglia topuria e live train di liverpool paddy pimblet i due si lanciano oggetti di uso comune e lanciano colpi scenografici in questo video semi preparato topuria ha spiegato la situazione in un post sui social dicendo ti avevo avvisato questo è quello che succede quando manchi di rispetto al mio paese mi hai visto volevi fare l'amicone perché ti sei cagato in mano e dovresti ringraziare il mio team perché se non mi avessero fermato ti avrei staccato la testa questo non è twitter questa è la vita vera non tarda la risposta di paddy che dice immaginatevi di essere con cinque amici e saltare addosso a uno da solo non mettere a segno neanche un colpo e beccarsi una boccia di igienizzante per mani sulla testa faccette sorrisine piccolo pagliaccetto simbolo del fungo non provare a fare grosso e far finta di aver combinato qualcosa visto che ti sei cagato in mano facendo finta che ti stessero trattenendo faccine lacrimose senza palle ditemi cosa ne pensate i due saranno protagonisti di due incontri separati questo weekend a ufc london io vi ringrazio vi saluto e alla prossima ciao ciao